Ovirta si compone di un motore centrale che è di fatto l'orchestratore, la console centrale e uno più host gestiti. Ovirta è un sistema di virtualizzazione pensato per la gestione di un data center quindi in realtà il caso con un host è il caso del genere. Voi andrete a utilizzare, si spera, Ovirta per gestire un intero data center composto da più cluster e più host. In questo caso avendo risorse limitate sul mio portatile e banalmente abbiamo il motore centrale e un singolo host. Ce n'è un secondo ma l'ho spento perché se no mi morirà il portatile. Ovirta cosa vi permette di fare? Vi permette sostanzialmente di gestire tutto quello che è il ciclo di vita delle macchine virtuali. Quindi avete uno o più data center, all'interno del data center andrete a gestire quello che è lo storage, lo storage può essere locale o condiviso per usare funzionalità evolute quali la live migration e così via. Ovviamente vi serve uno storage condiviso. Storage condiviso che può essere NFS, RISCASI, GRUSTFS o Fiber Channel. In questo caso ho un piccolo share NFS. Ovirta vi permette di gestire le reti. Le reti sono delle subnet logiche. Vi permette di gestire delle subnet fatte con Linux Bridge che è la networking tradizionale oppure vi permette di gestire delle subnet fatte come VXLAN su OpenVSWITCH. In questo caso è un approccio più simile a quelle che vengono definite software defined network. Voi andrete dal motore centrale a definire quelle che sono delle reti e lui andrà a applicare la configurazione sugli agent dell'OpenVSWITCH installati sui vari host per realizzare sui vari host una rete logica di Verlain. Ovirta vi permette poi di gestire i cluster. I cluster si compongono di host. Perché alcune funzionalità evolute quali live migration possano funzionare, tutti gli host all'interno del cluster devono essere omogenei per caratteristiche. Questo perché? Perché se faccio parte di una macchina virtuale che si aspetta determinate caratteristiche della CPU e la voglio spostare non può finire su un host dove la CPU non fornisce quelle che è feature. E quindi perché vado a creare più cluster? Perché all'interno del mio data center magari ho famiglie di host acquistate in tempi diversi con caratteristiche diversi. Un set di host omogenei fra di loro è per me un cluster. In questo caso ne ho fatti due. Possiamo aggiungere e cancellarli. Possiamo fare sostanzialmente quello che ci piace. Qua forse avevo una VM. Ovirta si integra anche con provider esterni. In particolare si integra con i provider di OpenStack quali Glance e Sinder. Glance per gestione di immagini da template e Sinder per gestione di volumi SEF. Neutron per gestione di software defined network. Adesso noi stiamo vedendo di Ovirta il portale di amministrazione. Una delle cose interessanti del progetto Ovirta è che il portale di amministrazione che è stato sviluppato in Java è stato sviluppato con un forte disaccoppiamento tra quello che è il mondo del front-end e quello che è il suo back-end interno. Quello che vedete qui ovviamente è solo front-end. Tutto quello che voi fate qui a livello di front-end di questo portale di amministrazione agisce in realtà su un back-end che fornisce delle API rest. Non c'è nessuna azione fatta da front-end direttamente sui dots senza passare dal suo back-end. La cosa interessante di questo API rest è che le usa front-end ma le potete usare anche voi voi sviluppatori, voi DevOps. Questo perché? Adesso magari vi faccio vedere velocemente cosa sono le API. Aggiungiamo un secondo tab vedete che punta allo stesso URL ovvero al mio engine che è in esecuzione. Io ho delle API le API mi permettono di definire tutte quelle che sono le sostanzialmente mi permettono di fare tutte quelle operazioni che poi il back-end andrà a svolgere. Sono API rest, full rest. Le API sono autodocumentate nel senso che la documentazione è in linea e sfogliandola potete vedere i vari servizi forniti dall'API non so la gestione del cluster. ci clicco sopra e mi dice che su cluster posso fare get per sapere quali cluster ci sono remove reset emulated machine per cambiare lo stato updates se voglio cambiare nella configurazione. Su get mi dice quali sono i parametri quindi mi dà in uscita un cluster mi permette di impostare dei filtri per cui non voglio la lista di tutti i cluster ma solo quelli che rispondono a un determinato filtro. Perché l'avere dell'API è estremamente importante? Perché vi permette di usare OVIRT anche in modo programmatico. Questo per diversi motivi. Uno perché magari siete DevOps e vi viene più comodo usarlo così vi viene più comodo farvi i vostri piccoli script. Magari nel vostro data center ci sono tante macchine virtuali quindi le azioni che fate possono essere automatizzate. Se voi avete non so un centinaio un migliaio di macchine virtuali dovete cambiare qualche caratteristica e farlo a mano dovete mettere lì l'amministratore di sistema che sta lì clic 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 e fa la stessa operazione per tutte le macchine virtuali una a una. Se voi questa cosa la potete fare con uno script l'andate a automatizzare. Potete usare REST API per andare a integrare OVIRT con quelli che sono i vostri sistemi aziendali i vostri flussi di lavoro. Questo vi permette ad esempio di automatizzare quello che è deploy e passaggi in produzione. Quindi quando voglio creare un'istanza nuova per un cliente nuovo mi faccio il mio piccolo script che mi crea il mio storage mi crea il mio set di macchine virtuali le configura le lancia e lo faccio tutto da codice lo faccio da la mia infrastruttura quindi il mio pezzettino di data center con i miei server virtuali il mio storage virtuale la mia rete virtuale non la definisco attraverso un manualetto che do a qualcuno e gli dico creami questo ma la definisco da codice e con un click poi lui fa quello che deve fare. Oltre all'API all'accesso diretto alle rest API con OVIRT vengono forniti degli SDK l'API come vedete sono autodocumentate c'è tutto un modello dell'API sulla base di questo modello abbiamo un generatore automatico di codice che crea gli SDK gli SDK vengono forniti per Python Ruby e Java gli SDK sono generati automaticamente a partire dal modello dell'API adesso per comodità andremo a fare qualche piccolo esempio con l'SDK per Python ho scelto Python semplicemente perché essendo un linguaggio interpretato in modo interattivo riusciamo a usarlo molto velocemente piuttosto che non con Java dove comunque devi fare la tua classe lanciare lanciava e tutto quello che vedete fatto con l'SDK di Python è disponibile anche negli altri due SDK banalmente perché tutti e tre sono generati automaticamente a partire dallo stesso modello di API quindi non c'è una funzione in più un parametro in più o meno in nessuno dei tre sono assolutamente idempotenti adesso ovviamente io sulla sulla mia macchina ho tutto preinstallato se voi in un ambiente pulito ovviamente dovrete installare a VIRT seguendo la documentazione quant'è sulle macchine su cui andrete a far girare l'SDK dovrete installare l'SDK per Python per Java o per quello che volete per farlo se siete su macchine Centro su Fedora su macchine dove comunque i pacchetti si installano con GNUM andate su repository principale di OVIRT installate l'RPM della release ovviamente qua lo dovete fare da root ovviamente qua è già installato in realtà a questo punto tra i pacchetti che saranno disponibili avrete Python OVIRT NGK SDK 4 SDK 4 perché la versione Lengine che stiamo utilizzando è la versione 4 esiste un layer di compatibilità con la versione 3 che è la versione precedente per cui con un diverso SDK potete utilizzare dei programmi scritti in passato oggi la versione upstream è la 4 quindi andiamo direttamente a vedere l'SDK 4 quindi banalmente lanciamo la nostra istanza Python tutto quello che vi faccio vedere in realtà è assolutamente documentato online anzi magari vi faccio vedere anche dove trovate il materiale questa è la documentazione online su Github la versione stabile è la 4 la versione in via di sviluppo è la 4.1 scegliete la versione corrente e vedete la documentazione anche questa sempre generata in automatico sempre su Github troverete anche tutta una serie di esempi sul progetto Over-Tangine SDK nella sessione Examples troverete dei mini esempi degli snippet di codice con cui portare a termine quelle che sono le azioni che vi interessano quindi aggiungere una macchina virtuale cambiare un cd o quello che volete sostanzialmente per ogni azione per le principali azioni possibili c'è sempre l'esempietto già disponibile adesso proviamo a fare qualcosa in modo interattivo ovviamente la prima cosa è importare i nostri plugin i nostri moduli scusatemi va bene o ancora di più meglio ok i moduli in questo caso sono due fanno parte del modulo virtual SDK quadro sono l'Sdk stesso e types che ci serve per definire tutti i type ovviamente è buona cosa e poi vi faccio vi farò vedere perché importare anche il modulo logging il logging standard di python adesso andiamo a configurarlo qui non c'è nulla di particolare sto semplicemente configurando il log standard di python e gli dico di loggare su file gli dico di loggare a livello debug perché l'Sdk normalmente non funziona a livello debug e quindi alcune informazioni che in fase di sviluppo vi possono essere molto molto utili andreste a perdere in fase di sviluppo vi consiglio di lavorare in modalità debug quindi avete tutto l'output completo su file ovviamente vi servono i parametri di connessione i parametri di connessione in questo caso sono l'url dove ci sono le API lo username con cui accedere e la password potete accedere anche tramite Kerberos ovviamente si integra con le principali di area directory standard o con LDAP la prima cosa da fare per usare le API è creare una connessione come si fa a creare una connessione sto litigando con il mouse oggi la connessione è semplicemente un'istanza della classe connections sul modulo SDK dove gli vado a passare l'url dell'API il mio username la mia password siccome l'url è su HTTPS normalmente vorrebbe la verifica dei certificati ma in questo caso il certificato è auto firmato quindi gli passo la modalità insicura semplicemente perché non ho importato il certificato della CA interna gli dico che voglio lavorare a livello debug e gli dico che il log è il log di sistema che ho configurato prima ovviamente a questo punto la prima cosa da fare è testare che il tutto abbia funzionato esiste la funzione test che mi dà true se sono connesso all'API in questo caso l'effetto daemon non c'è stato ma è andata bene se è connesso data la connessione la prima cosa da fare è accedere ai servizi di sistema di OVIRT e quindi vado a definire un oggetto API che sono di fatto il proxy a tutti gli oggetti di sistema sul modulo API a questo punto ho quelli che qui vengono chiamati service che di fatto sono dei proxy per accedere all'entità di OVIRT sostanzialmente sono tutti quelli che trovate sulle raste API e quindi tutto quello che trovate in OVIRT quindi avete un proxy per le macchine virtuali per i profile delle WNIC per i pool di macchine virtuali se li usate per la gestione degli utenti la gestione dei template la gestione dello storage la gestione dei meccanismi di scheduling tutto quello che c'è in OVIRT è mappato qui facciamo magari un esempio molto molto veloce voglio vedere quali host ho nel mio sistema accedo al servizio host chiamo metodo list che mi restituisce una lista una lista python di host ognuno di questi è un'istanza nel nel modulo types ognuno di questi è un host per ognuno di questi posso andare a verificare tutte quelle che sono le proprietà che vedevo da interfaccia amministrazione quindi vedo che ho due host di cui uno app e seconda in maintenance maintenance significa che l'ho disattivato perché non mi girava sul portatile allo stesso modo posso vedere quelli che sono i miei template che ho creato nel mio data center in questo caso vedo che ho tre template posso accedere a un template per volta sto accedendo al singolo template in questo caso questo è anonimo il secondo è una una distribuzione linux giusto per provare che la virtualizzazione vada e il terzo template una fedora 24 già preconfigurata vi dicevo che il metodo list supporta anche la modalità search quindi anziché volere la lista completa di tutti i template o in generale tutti gli oggetti disponibili posso dire che voglio solo la lista di template che corrisponde a una determinata ricerca in questo caso la ricerca è sul nome e quindi impongo che il nome del mio template debba essere fedora 24 lui comunque mi restituirà una lista ma so che questa lista potrà contenere un solo elemento e quindi di fatto ho ottenuto il mio template se voglio creare una virtual machine partire da questo template vi faccio vedere cosa c'è nel data center c'è una sola macchina virtuale che è spenta la possiamo rimuovere la rimuovere non c'è alcuna macchina virtuale la stessa operazione che ho fatto che l'amministratore di sistema ha fatto dall'interfaccia la potevo fare in modo programmatico dal mio script e quindi andiamo a vedere come creo il proxy per il sistema che per l'elenco delle macchine virtuali a questo punto andrò ad agire con il metodo add il metodo add mi permette sostanzialmente di andare a creare una nuova macchina virtuale nel mio data center in questo caso posso specificare tutto quello che trovo nella documentazione API in questo caso vado a specificare solo il nome il cluster su cui la macchina virtuale deve essere creata in questo caso userò il cluster di default e dico che la macchina virtuale deve essere creata a partire da un determinato template lui ci mette un secondo registra la richiesta e ha creato la macchina virtuale in generale OVIRT è un sistema di immaginatevelo come uno schedulatore tutte le richieste vengono sottomesse in una coda quindi io in realtà dovrei andare sostanzialmente in polling a verificare lo stato di creazione della mia macchina virtuale questo perché perché alcune operazioni pensate se volessi creare una macchina virtuale con un disco di 400 giga non posso stare a aspettare in modo sincrono io semplicemente schedulo la creazione e poi andrà a verificare che la creazione sia stata completata in questo caso il template è di 200 mega nel momento in cui vi ho raccontato questa cosa lui probabilmente è finito anzi non è vero infatti verifichiamo che image locked quindi la sta ancora creando ok il passo successivo ovviamente a questo punto è avviare la virtual machine non l'abbiamo creata da template la virtual machine risponde a tutte quelle che sono le caratteristiche del template quindi a sistema operativo che c'era sul template io però la voglio personalizzare personalizzare vuol dire che gli voglio dare l'hostname che mi interessa voglio creare gli utenti che mi interessano con la password che mi interessa e magari voglio già preinstallarci il software o eventualmente per caricarci quello che mi interessa per farlo posso usare Cloudinit Cloudinit è lo standard de facto per la personalizzazione di macchine virtuali è usato su OpenStack è usato Amazon AWS è il sistema di scripting più utilizzato per la configurazione di macchine virtuali Linux in ambito Windows esiste il sysprep di Windows con Cloudinit posso andare a definire quelle che sono le proprietà attraverso la configurazione di parametri standard di Cloudinit o posso anche creare degli script custom in questo caso vado a definire uno script custom dove lo script mi dice che quando avvierò la mia macchina virtuale andrò al primo boot appena dopo il boot andrò a scrivere un file il cui contenuto del file è lo word lo andrò a scrivere in TMP con questi permessi mi serve per poter riconfigurare il proxy per l'istanza della macchina virtuale che abbiamo creato prima quindi andrò dal proxy di tutte le macchine virtuali a prendere il proxy della singola macchina virtuale in base all'ID l'ID è la proprietà dell'oggetto VM che avevamo quindi VM underscore service è un proxy al servizio che controlla la specifica macchina virtuale su questa posso a questo punto chiamare il metodo start il metodo start di fatto avvia la macchina virtuale in questo caso gli vado a dire che voglio utilizzare Cloudinity per configurarla voglio dirgli che all'interno del mio script devi usare questi parametri standard per Cloudinity quindi la macchina virtuale dovrà avere un utente root con password datum 2.3 la macchina virtuale dovrà prendere questo name la macchina virtuale dovrà prendere un'interfaccia di rete TH0 configurata con indirizzamento statico con questi pv4 con il suo address al netmask il gateway questi dns questo dominio di ricerca e in più oltre a questi parametri dovrà eseguire il mio script Cloudinity tradizionale che ho preparato qui sopra quindi a questo punto la mia VM adesso qui la vedo ancora locked ok è partita è partita e ha preso la configurazione che abbiamo determinato ovviamente tutto quello che non ho specificato vale template quindi non ho specificato quanto fosse grande il disco non ho specificato quanta RAM avesse quanto non è specificato viene preso da template posso fare override di ogni singolo parametro ovviamente per la macchina virtuale posso gestire tutto il ciclo di vita ciclo di vita vuol dire che posso fare adesso un host solo quindi non ha senso farlo posso farla migrare al volo posso mettere in un pool posso impostarne le proprietà posso creare uno snapshot e poi andare a fare un backup a partire da quello snapshot in questo caso andrò quindi sul il servizio che mi fa da proxy all'elenco delle macchine virtuali andrò a prendere la mia singola macchina virtuale che ha quelli di specificato andrò a istanziare il proxy per il servizio di snapshot che è questo e quindi ho la mia stanza del proxy per il sistema di snapshot a questo punto posso creare il mio snapshot ovviamente anche qui in realtà ho schedulato la schedulazione di uno snapshot creare uno snapshot del disco se il disco è grande è un'operazione che potrebbe impiegare un tempo consistente io semplicemente ne ho schedulato la creazione anche qui posso o andare in polling a verificare nello stato oppure utilizzare un meccanismo diverso che è quello degli hook per cui posso impostare ovirt per inviarmi un'email o eseguire un piccolo script triggerato all'esecuzione del se voglio fare tutto in un unico script il metodo banale ma più veloce è quello di andare in polling se vado a vedere la sua mia virtual machine a questo punto vediamo che ho creato lo snapshot l'ho creato ora e si chiama come ti ho detto ovviamente posso anche fermare la virtual machine ucciderla posso fare sostanzialmente tutto quello che farebbe l'amministratore del sistema dal tool di controllo lo posso fare in modo programmatico adesso magari non entro nei dettagli perché tutto sommato il giochino l'abbiamo visto l'ultima cosa l'ultima funzionalità che voglio farvi vedere è che queste operazioni lo possiamo fare con un approccio imperativo attraverso l'SDK per Python per Java per Ruby per quello che volete andando a definire la serie di azioni che vogliamo che vogliamo compiere ma le possiamo anche fare in modo dichiarativo le possiamo fare in modo dichiarativo attraverso quale linguaggio al momento è stato scelto Ansible non so chi di voi ha utilizzato Ansible adesso abbiamo un modulo nella versione 2 dalla versione 2.2 di Ansible è già nei moduli standard di Ansible c'è il modulo WIRT è un po' limitato non vi permette di fare tantissimo sinceramente è in via di riscrittura totale quindi con la versione 4.1 arriverà con la versione 4.1 di OVIRT arriverà un modulo Ansible nuovo che è molto più completo che sarà incluso successivamente in Ansible al momento non lo trovate lo trovate qui su GitHub richiede la Tansible 2.2 potrebbe girare localmente non è nei moduli standard che vi arrivano quando installate Ansible al momento adesso vi faccio vedere un piccolo un piccolo script che ho creato ovviamente Ansible lo andiamo a utilizzare in modo dichiarativo attraverso il suo linguaggio YAML in questo caso con Ansible anziché andare a definire l'elenco di comandi che ci servono per realizzare il nostro obiettivo andiamo semplicemente a dichiarare quello che deve essere lo stato finale della nostra configurazione ovviamente gli servono dei sottomodulini interni che sono quelli per poter funzionare quindi l'autenticazione è sostanzialmente l'unica cosa che gli serve vado a definire delle variabili vado a definire l'autenticatore per il single sign on per poter accedere detto questo vado a dire che voglio nel data center default un cluster chiamato test1 che anzi magari adesso ne aggiungiamo un altro così lo vediamo al volo vado a definire vado a dire che nel mio data center vado a avere due cluster uno che si chiama test1 uno che si chiama test2 entrambi basati su una cpu di intel piuttosto vecchia con lo switch di tipo legacy ovvero lo switch fatto con linux bridge a questo punto andrò a dire che nel cluster test2 che non c'era voglio una nuova virtual machine la voglio che sia ferma non voglio che me la faccia partire lui che si chiama che si chiama così basata su template fedora24 al termine dico semplicemente di fare logout se andiamo a vedere nella nostra istanza ovirt vediamo che attualmente ci sono solo i cluster default test1 a questo punto possiamo mettere in esecuzione il nostro script Ansible lui ovviamente si connette si autentica crea cluster perché si è accorto che mancava sta creando la vm perché si è accorto che mancava e ha fatto il logout mi dice che ha cambiato due elementi i due elementi sono cluster che ha aggiunto e la vm che ha aggiunto se andiamo a vedere forzo il refresh ok è apparso secondo cluster e al suo interno trovo la la nuova vm ferma perché io ho detto che fosse ferma basata sul sul mio template fedora24 e anche qui posso fare con il nuovo modulo Ansible purtroppo non con quello che viene che viene fornito attualmente con Ansible 2.2 2.3 posso iniettare uno script cloud init per eseguire qualcosa installare dei pacchetti o avere già qualcosa in esecuzione su mia virtual machine ovviamente se l'utente fa qualsiasi azione non so rimuove la virtual machine la distrutta e io vado a rieseguire il mio script Ansible lui verifica fa quello che deve si accorge che il cluster c'è già quindi non fa nulla si accorge che la virtual machine manca perché l'ho cancellata dall'interfaccia amministrazione e me la ricrea quindi io con un approccio dichiarativo vado a definire quella che è la con un approccio dichiarativo ma comunque programmatico vado a definire quella che è la configurazione del mio data center e attraverso Ansible sono sicuro che lui mi garantisca che questa venga messa in opera ovviamente posso usare tutte le funzionalità di Ansible per farlo in modo parametrico quindi posso creare dei script parametrici che tramite un set di parametri vado a creare delle istanze personalizzate per cui permette in esecuzione il mio ambiente di sviluppo parametrico posso creare il mio piccolo script parametrico passagli tre parametri lui se lo personalizza se lo espande e mi crea il mio ambiente fatto in base al template di descrizione che ha fornito attraverso lo script Ansible Yam domande dubbi funziona ok perfetto sì direi che abbiamo tempo per le domande poi comunque c'è un piccolo momento di break tra un talk e l'altro così che chi vuole può starsi fare due passi oppure dirgisi verso le altre sale io ho alcune domande ma se ne avete anche voi vai ok c'è un modo per testare effettivamente l'infrastruttura non so anche tramite Ansible si puoi usare funzionalità di Ansible che ti fanno la preview senza applicare e ti dice quello che farebbe senza farlo magari non ve l'ho fatta vedere prima io prima avevo detto lavoriamo in modalità debug poi mi sono dimenticato di farvelo vedere lavorando in modalità debug gli ho detto di scrivere al mio script python un file di log nel file di log mi dà con un livello molto dettagliato tutto quello che ha fatto quindi vedo che ha ceduto all'API REST con l'output di ogni di ogni API e vedo esattamente tutto quello che è transitato quindi vedo ogni singola richiesta ogni singola risposta sono tutte tracciate sul file di debug ok altre domande io ne ho un paio prego quando hai nominato poco fa la parte di snapshotting sono snapshot che fai su macchine che stanno su logical volume su file che rappresentano file system interi cioè che tipo di file system hai qua per allora lì dipende cosa hai creato a livello di storage puoi fare sostanzialmente puoi lavorare con storage locale a quel punto è un file e un file QCOR2 si crea lo snapshot QCOR2 puoi lavorare su storage condiviso a quel punto virta un livello di astrazione per cui a prescindere del tipo di storage ogni macchina ha un volume lvm all'interno di quello storage a prescindere a prescindere e lì dipende da quanto è evoluto il tuo storage ad esempio se hai una sun fiber channel evoluta manda al comandino dice alla sun di far da lei se uso gluster se usi gluster non ti so rispondere dovremmo chiedere a quelli gluster penso che anche lì mandi il comando a gluster faccia lui ma aspettare sia così ma non l'ho mai verificato sinceramente ok comunque virta ti fornisce il il metodo di astrazione snapshot che vale in generale a prescindere dallo storage non devi fare cose diverse se sei su storage diversi poi cerca di fare dal meglio perché ti viene permesso dalla tecnologia di storage che vai a utilizzare ok quindi cambio cambio discorso in un ipotetico progetto di migrazione in cui passi da un sistema non so nel mondo per esempio proxmox per intenderci e vuoi portare la tua infrastruttura su ovirt nei fatti mi sembra di capire tu una volta che hai ricreato diciamo lo stesso ambiente migri le macchine in un qualche modo accedendo allo storage che avevi allora vabbè la risposta facile è se non hai bisogno di continui di se non hai tantissime macchine e sono già macchine KVM le esporti e le importi una per una e lo puoi fare anche in modo programmatico perché è scriptabile se hai già un ambiente molto complesso nei provider adesso io qui non l'ho configurato è possibile aggiungere ho sbagliato io è possibile aggiungere tra i diversi tipi di provider la possibilità di far importare adesso qua in questa versione ho solo il modulo per VMWare ma in realtà dovrebbe esserci qualcosa anche per KVM ti puoi sostanzialmente connettere a un vCenter gli dai ovviamente le autenticazioni dai username e password del vCenter dall'altra parte ti fa vedere l'elenco delle macchine virtuali le ferma su vCenter se la esporta se la copia sul tuo storage locale attraverso LibGest FS gli fa l'injecta al volo dei driver di paravirtualizzazione i KVM dell'agent di OVIRT e a quel punto poi puoi far ripartire la virtual machine su un cluster nuovo di qui quindi la succhia dal vCenter quindi per un sistema la Proxmox magari usa già KVM ovviamente essenzialmente una macchina secondo me c'è anche probabilmente non lo esteriamo di default non sono sicuro c'è questo si chiama VIRT VIRT UV questo modulo dovrebbe esserci già anche VIRT VIRT UV per KVM generico quindi mi aspetto che funzioni anche con Proxmox nel caso peggiore le esporti e le importi con un piccolo script se tu le avessi su Ganeti giusto per toccarli proprio tutti forse con il modulo per KVM perché alla fine la virtualizzazione è così non lo so ok ok c'è da guardarci c'è da guardarci allora sicuramente nel caso peggiore devi fare un po' di scripting alla fine in qualche modo lo si fa smetto di dottorati va bene niente se non ci sono altre domande grazie ancora Simone per la disponibilità e ci vediamo qua tra un quarto d'ora grazie a tutti